Ma cos'è, uno scrigno, è qua un ragione, mamma mia, quanto è brutto, la ragnatela, oddio, ma che posto è, ma dove sono capitato, mamma mia, però sono vivo, sono intatto, ma certo, è Sauron che mi ha rapito, o no, è lui, eccolo. Ti ricordi chi sono, eh? Sauron, sono il tuo vecchio caramico, che ti ha dato la caccia per tanto tempo, ma ora ti ho preso, e non ti azzardare a fuggire da questa grotta, perché io ti tengo d'occhio, hai capito? Se solo riuscissi a prendere l'anello, fermo, ragnone, non ti muovere... Cosa ti avevo detto? Di non muoverti, stupido essere umano, che non sei altro, nessuno disobbedisce a Sauron. E adesso sono ancora più nervoso di prima, tanto la tua fine è scritta. Non è scritta per niente, io adesso ti ucciderò, prendi quel... Come hai usato... Colvermi!